1999, portiamo al debutto l'Aprilia con l'RSV 1000 della Superbike. Scena idilliaca, dopo tanti anni di, non dico stenti, ma insomma di riutilizzare tutto fino alla fine, quando facciamo il contratto con Aprilia arrivarono due bilici, scaricarono nell'officina da noi una montagna di robe, tipo 50 motori, pezzi di ogni genere, di tutto e di più. Cominciamo a fare questa moto e un aneddoto molto simpatico è che io parlando con questo ingegnere dissi che per correre a 2000 metri, che c'era la prima gara in Sudafrica, a 2000 metri, bisogna fare un rapporto di compressione di questo tipo, una fasatura di questo tipo, altrimenti la moto non va. Wittwen e tutti gli altri ingegneri dissero no, 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 non fare il motore così perché si rompe subito. E questo ingegnere che veniva dalla Formula 1 mi ha capito e mi disse, Nando te fai due motori, ma fali di nascosto e poi in Sudafrica li provi. E così facciamo due motori super compressi, fasati in maniera, insomma andiamo in Sudafrica, sabato quando Godard provò questo motore disse, ah questo sì che va, ma non è che quello era meglio degli altri, era fatto per correre a 2000 metri, mentre gli altri erano fasati, compressi per correre a livello del mare. È stato un grande debutto, un grande lavoro. Mi dispiace di aver lasciato sto lavoro un po' a metà, perché a fine anno Aprile ha deciso di riportare il discorso Superbike all'interno dell'azienda e quindi ruppe un contratto che era un contratto triennale con anessi e connessi, insomma. Ritengo di aver fatto un ottimo lavoro con Aprile. Grazie. 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 Grazie.